Il spettacolo che nelle zone dove sventola il tricolore si rinnova ogni giorno ininterrottamente e costituisce l'indiscutibile prova di come in tutto il Tigrai, lungamente attenagliato dal gioco scioano, viene invocata ed accolta l'avanzata liberatrice delle nostre truppe, avanguardie della civiltà e della giustizia che da Roma hanno origine ed ininterrotte tradizioni e di cui già beneficiano le popolazioni redente dalla schiavitù e dalla miseria. Grazie a tutti! Grazie a tutti!